Aveva un debito con l'erario, per non pagarlo aveva intestato i beni alla compagna, ma è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza. A finire nei guai un imprenditore ora fu a retino di 46 anni. L'uomo doveva pagare un importante debito all'erario in seguito ad un mancato versamento dell'IVA, ma per evitare di farlo aveva messo in piedi una lunga serie di operazioni societarie, consistenti in cessioni di quote sociali e costituzioni di nuove entità giuridiche, anche attraverso l'intestazione fittizia ad una testa di legno della società ormai decotta, la cosiddetta Bad Company. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno però ricostruito i flussi finanziari ed il patrimonio dell'indagato, individuando così le modalità di evasione che aveva attuato. L'imprenditore è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per il quale è stato richiesto alla Procura della Repubblica di Arezzo il sequestro delle disponibilità bancarie e di un immobile, un capannone ad uso industriale e commerciale, oggetto delle finte cessioni per un valore stimato di circa 90.000 euro. Il 46enne ha così versato le somme dovute nelle casse dello Stato per rientrare in possesso dell'immobile. Le liquidità così recuperate hanno consentito l'estinzione del debito tributario accertato sotto la vigilanza e con le modalità stabilite dalle fiamme gialle e aretine.